Buongiorno, oggi faremo un video, ma va, e questo razzo, per questo razzo mi hanno aiutato Paolo, Ermanno e Giancarlo che ringrazio moltissimo per l'aiuto e adesso devo dare solo più dagli gli inviti e, ah, cosa rigida? Ah ok, quindi, ah ok capito, e niente, ha già fatto il video sera fine, quindi partiamo da un filmato. Buongiorno, buongiorno. Allora, vi devo dare degli inviti, ma prima dobbiamo fare un controllino che si legge robato e Giancarlo. Allora, Giorbando, quanto fa tutti i due? Quattro e mezzo. No, mi dispiace, fa 4,00. Te dimmi quanto fa 2,5 più 2. 4,5 più 2. Eh, ah no, scusatemi, ho sbagliato, vabbè. Eh, 4,5 no, mi spiace, fa 4,50, mi spiace. Non vi do nessun invito e di qualunque che non vorrà nessun video. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un fallimento, ma non ci fermeremo qui, il Razzo 0.2.1 si farà e si continuerà questa serie ormai. E aspettatevi prossimamente un altro video sul Razzo. Ciao!